Aprire una porta santa non solo nelle chiese ma anche nei luoghi della sofferenza e dell'incontro. L'invito di Papa Francesco nell'anno del Giubileo della Misericordia è stato raccolto anche dalla diocesi di Termo Lilarino. In occasione della festa della Madonna di Lourdes e della giornata internazionale del malato, il Vescovo Gianfranco De Luca ha aperto come gesto simbolico una porta santa anche all'ospedale San Timoteo. Di tutti i luoghi dove si vive la sofferenza, dove si ospita chi fa fatica con la vita perché è lì che si può esercitare la misericordia, è lì che siamo chiamati a testimoniare quella misericordia che trasforma la vita, che la rinnova, ma anche è lì che possiamo attingere la misericordia perché è donando che si riceve, è amando che si viene amati, è entrare così e attivare questo circuito vitale della misericordia che è veramente una forza rinnovatrice della nostra società. All'evento condiviso dalla direzione sanitaria hanno partecipato medici, infermieri, pazienti e le loro famiglie, i volontari delle associazioni e la parrocchia San Francesco. La messa è stata celebrata insieme agli altri sacerdoti nell'atrio dell'ospedale per rinnovare un messaggio di fiducia e di speranza. Siamo contenti perché cerchiamo di portare sempre nel campo dell'assistenza una grossa quota di umanità. Gli operatori devono sempre vedere nel malato Cristo che soffre e questi eventi servono proprio a ricordare questa occasione, questa necessità. Per i volontari che incontrano ogni giorno chi vive l'esperienza della malattia un impegno rinnovato e la condivisione di tante iniziative di solidarietà. Noi come associazione abbiamo una grande responsabilità che è quella di accompagnare, visitare i malati, accompagnarli nel loro percorso. Il nostro è un impegno gratuito e volontario, lo espletiamo tutto l'anno.